Eccoli! Com'è fatto a vedere sotto la mappa? Dai vieni Gabby, vieni a giocare con noi! Aiuto! Prodo io, prodo io! Salve, salve, salve! Cosa sta succedendo? Mi state facendo la mutante? Mi sto arrestando la mutante! Giallo! Gabby! Rosso! Redbox! Blue! Lon! RGB! Ecco, vedi? Guarda che vuole rubarci la barca, vuole rubarci la barca! Pirati! Sono i pirati! Sono un pirata! Sono arrivato! Ci ho portato! Ci ho portato, vado via! Lo prendo io questa barca! In mare! Dov'è Gabby? Abbiamo perso i Gabby! No, sono qua! C'è una maschera da subio! Non muoio! Aspettate che mi butto in acqua! No, aspettate! Sono di lato! Redbox! Redbox! Mi devo appendere! Aiuto! Aspettate un secondo! Aspettate un secondo! Ok! Aiuto! Tiratevi su! Respiro! Ma è sotto ancora! Ok! Ok! Sono sopra ragazzi! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Grazie! Grazie ai miei giovani squali! Ma dove siamo? È al mercantino! Guardate quella nave! Non possiamo usare quella! Andiamo! Andiamo! Oh cosa! Noi siamo ancora qua! Eccolo che arriva! Vai vai vai! L'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! L'ho preso! Anche io! Guardatela voi! Guardatela voi! Sì! Grazie buon uomo! Avete pescato un tonno! Cosa? Come l'hai buttato male! Ok! Sì! Campione! Il tonno! Quanto grande è questo tonno! Quelche tonnellata! Oh 25! Ok! Ok! Ragazzi! Se saliamo io salgo sopra Redbox! Perché voglio sempre arrivare per prima! Io salgo sopra tutti e due! Questa volta arrivo prima io! Questa volta arrivo prima io! 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 Siamo arrivati! Allora Lonna! Seguimi! Questa è una spedizione! Ci vuole un poliziotto o un prigioniero! E quindi! Io ho le mani in alto! Ho le mani in alto Lonna! Non spararmi! Ho lasciato la pistola negli altri pantaloni! E questo è il solito zombie che è meglio buttar fuori dalla madre! Faccia lei! Cosa fate? Si è attaccato lo zombie! Perché? Volevo liberarmi! Non devo restare! Non devo restare! Non mi può buttare il criminale! Siete sicuri che si guidi sta nave? Non lo so! Forse con la potenza della vera! Che aiuto! Allora io tiro questa! Ok? Ok io ho l'altra! Oh oh! Allora questa è l'acceleratore! Facciamo? Ok 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 con questa si vira! Con questa si vira! Aspetta aspetta aspetta! Ok con questa si accelera! Redbox no! Ok io lo vedo da quella parte ragazzi! Terra ore 12! Terra ore 12! Terra ore 12! Ragazzi! 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 500 euro per il passaggio fin qua! Io svengo! Non ho più i soldi! Come io svengo! Perfetto! Ok ragazzi! Non premere il bottone rosso! Prima regola del film d'azione! Questo! Ragazzi! E questo succede quando io metto le mani su cose che non conosco! Aspetta ragazzi! Ma se ci agganciamo a questo! E se io vado qui sopra! Ok allora Gabby! Attaccati da sopra! Ok! Buona! Ah! Io meno! Perché va sempre a finire così! Fidati! Che bello! I miei migliori amici mi fanno fare esperienze ai confini della morte! Aspettate ragazzi! Faccio un po' di sud! Sì! Sì! Bravo Gabby! Perfetto! Dove sei Gabby? Eh ho un problema se mi date una mano guardate! Ma perché? Ma fatte con calma! Oh! Che forzuto! Ho i madri ruschia! Sei più forte delle matrimosche di mia nonna! Ascolti! Lasci parlare russo quando parla! Per questo ruschio mi vuole prendere! Basta usare! Oh! Ma Amazon è arrivato in anticipo! Eccomi qua! Buongiorno! Servizio consegnare ai parenti di Redbox! Ok siete tutti pronti? Sì sì! Dobbiamo prendere anche questo! Aspettate allora faccio così! Ecco la barca! Ecco la barca! Tutti a bordo! Ecco! Ecco ragazzi! Sono caduto in acqua! No! Stai ribaltando la barca! Nonno! Nonno! Allora vieni! Nonno! È affondato ragazzi! È affondato! Lasciamo stare! I pesci saranno tuoi amici! I pesci! Ragazzi ci sono! Salverò! Salverò io la partita! No! Ragazzi avete trovato un modo mentre io mi prendo il sole! Ehi! Ecco fatto ragazzi! Gabi quando tu prendi la barca e praticamente arrivi alla porta laggiù ed è fatta! Ok! Capitano Jack! Sparatemi! Vai! Cos'era? Cos'è? La porta! La porta! La porta! La porta! Ce l'ho fatta! Perché sono un figo! E voi no! Gabi sono dietro di te! Oh no! Ragazzi! C'è lo scheletro di una barca! Non è quello giusto! Dobbiamo farlo assieme questa cosa! Ok! Non è quello giusto ragazzi! Aspettate ragazzi! Che è difficile! Aspettate! No! Ragazzi! Mi hai aiutato moltissimo! È un piacere essere d'aiuto come forza dell'ordine! Ok! Ho visto Redbox fare un volo strano! Salto della fede! No! Ok! Ce l'ho fatta! Sono sopra! Ma non serve a niente andarla sopra! Ma come non serve a niente? Inutile ragazzi! Non dovete passare per di lì! Da sotto! Qua! Guarda! Bravo Redbox! Sempre tu! Potere del checkpoint! Io! Ragazzi! Pesa troppo! Ragazzi! Il mio palo! Pesa troppo! Tiratelo giù! E affondo sempre per colpa di Redbox! Ma cosa c'è? Oh madonna! Oddio! Dove siete andati? C'è l'ancetti mio! Dove siete? Buona! Ok ragazzi! Ho trovato delle pietruzze ve le regalo in omaggio perché siete sedibrati! Ma come delle pietruzze? No 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 no! È pericoloso! Mi affondo! Mi affondo! Mi affondo! No! Gabbino! Gabbino! Non li è! È il karma Gabby! È il karma! È il karma! Hai fatto Gabby? Se avessi dito meglio te lo farai adesso! Gabi vuoi ridere? La leva è automatica! Veramente? Quindi ti riporto giù perchè non mi fido! Aspetta mi appendo Loro! Dai che c'è quasi! Porca vacca! Ti sta bene! Doppio dito medio! È colpa tua! Portami sfiga! Ragazzi quello che c'è quassù! Allora praticamente dobbiamo scendere per un corso d'acqua a bordo di un gommone! Cosa? Eh? Cosa è successo? Ma no! No! Gabi! No! Gabi! No! Gabi! Io che incanto carica c'è qua! Gabi! No! Ti uccido! Ma me li prendi un par di scatole! Non ci credo! No! Strano che dalla neve siamo arrivati qua! Dalla neve! Eravamo in spiaggia! E stavamo facendo il fine dei ragazzi di Lost! Tutta colpa tua! Ah ma sei arrivato! Yeah! Batti un 5! Ti batto questa pietra! No! Ragazzi! Oh! Ah che pro gamer! Aspetta 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 aspetta! No! Ma cosa è successo? Un pro gamer! Ma cosa è successo? Un pro gamer! Ah! Aia! Ciaiii! Però devo ammettere l'on! Hai la cappaccia dura! Ah ah! Sono tranquilli ma fuffo bene! Aspetta ma se tu mi chiudi dentro che cosa succede? Oh! Aspetta 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 aspetta! Rimani in mezzo! Rimani in mezzo! Dobbiamo farlo in nome della tenza! Ah! Mi hai bloccato la porta! Ah! Vai vai vai! Non è che rimango bloccato anch'io no? Vai vai! Sai che si chiude! Ah aha ah aha Mi sembra pagliarlo! Mi sigla! Ah ah ha te! Impariamolo! Aspetta! Gabi coordiniamo i movimenti! Abbac JB! Così io sono giallo! Così! Cosa state facendo! Via! Lasciamo! Ma cosa lasciamo? Ma dai una manoje ci capisci cosa! Ci siamo stancati! Ma dategli una mano che fa malissimo! Guardate! Ha una scatola! Oh! So caduto! Oh no! Sono caduto! Non fate danni ragazzi mi raccomando Non era previsto E se io mi buttassi qui Aspettate sono una scimmia Cosa stai facendo Gabby? E poi c'è un'altra scatola qua Ve la prendo Cosa ho fatto? Ho fatto cose buone Dobbiamo usare questo Lo usiamo sul trapezio Cavolo Ok ho sentito rumore di rottura Ok Un'altra porta Allora tira giù tira giù Non ho capito qua cosa devi fare Oh ragazzi Se la posso fare Va bene Mi ha spinto Hai finito livello Siamo tornati al castello Tutta questa fatica per tornare indietro E quindi questo era tutto Da lunga BRGB era tutto E noi ci vediamo al prossimo colore Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie per la visione!